Qui Umberto Gallimberti ci diceva ho l'impressione che stiano bruciando Draghi rischiamo di perderlo da una parte e dall'altra. C'è questo rischio? Intanto anche oggi pomeriggio ero alla Camera c'era l'assemblea dei grandi elettori del PD e anche tutta la giornata di ieri nelle ultime 48 ore nel mondo della politica tra i grandi elettori quelli che votano il Presidente della Repubblica c'è un fortissimo umore anti Draghi questo è il primo dato. C'è in sofferenza? Sì, c'è un senso di frustrazione un anno fa siamo stati commissariati perché non siamo riusciti a fare un governo adesso non vi aspettate che votiamo un Presidente della Repubblica come Draghi senza neppure sapere come va la legislatura mettiamoci dentro che la grande paura del parlamentare medio è che il Parlamento non si faccia un nuovo governo il Parlamento venga sciolto e si va a votare a parte la questione famosa della pensione che comunque scassa a settembre no, c'è una questione anche numerica è stato approvato anche con un referendum popolare un taglio dei parlamentari per cui ci saranno 400 deputati e 200 senatori quindi molti in meno rispetto agli attuali che sono quasi mille e quindi intanto c'è questo umore che gioca allora io penso che i protagonisti di questa vicenda cioè da un lato Draghi e dall'altro i segretari dei partiti stanno andando su due direzioni diverse cioè penso che Draghi sta facendo uno sforzo per assicurare un pezzo del mondo internazionale establishment che se lui va al Quirinale non ci saranno scossoni sulla stabilità del paese e quindi è come se suggerisse poi ci sarà un Presidente del Consiglio che sceglierò io proprio questo punto però terrorizza la politica perché dice come tu vai al Quirinale vuoi che ti scegliamo per il Quirinale e poi vuoi pure scegliere una specie di monarchia la stai descrivendo dall'altro campo l'altro campo la politica dice di no a Draghi ma allora dovrebbe dire sì a qualcuno sì a un politico è girato molto Casini il nome di Casini proprio come campione del Parlamento lui è in Parlamento dal 1983 quindi chi meglio di lui però a parte i pochi minuti fa Salvini ha detto Casini io non lo metto nella mia lista perché non è di centrodestra ora su questo diciamo lo è stato bisogna capire qual è il periodo se è il Casini rosa insomma il Casini è un po' come Picasso quindi bisogna capire di quale stagione stiamo parlando ma soprattutto i nomi che avanzano al posto di Draghi anche quelli non sono politici uno Elisabetta Belloni è il capo del DIS del Dipartimento dei Servizi è un altro che ha fatto il PD oggi il Movimento 5 Stelle e l'EU è quello di Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egirio quindi si dice di no a Draghi in nome del primato della politica ma poi la politica non ha un nome di un politico e allora qui questo è l'impasse in cui ci troviamo buio pesto nebbia fitta intorno al colle allora scuota fora vediamo un po' perché in effetti